Siamo con Giuliano Di Salvo, Presidente della sezione di Sernia dell'Associazione Radio Amatori Italiani. Allora, l'importanza di questa istituzione del ponte radio su Rionero Sannitico? Allora, c'è da sottolineare questo nuovo traguardo raggiunto dalla sezione Radio Amatori Italiani, sezione di Sernia, per aver installato questo ponte ripetitore nella località di Rionero Sannitico, situato a un'altezza di circa mille metri sul livello del mare. L'importanza di questa installazione riguarda la protezione civile, perché in caso di calamità naturali non si riescono a poter fare collegamenti con i nostri cellulari e internet e quindi questo ripetitore serve per poter stabilire dei collegamenti importantissimi per poter richiedere i vari soccorsi, proprio durante i terremoti, le alluvioni e tutto ciò che riguarda le calamità naturali. Che tipo di tecnologia è usata da questi nuovi mezzi di comunicazione? Allora, questo ripetitore è un fiore all'occhiello, si tratta di una nuova tecnologia denominata Dual Mode, cioè utilizza una tecnologia analogica insieme a quella digitale. Quella analogica è infallibile in caso di terremoti, alluvioni, cioè quando saltano le normali reti di telecomunicazioni. Quella digitale offre invece tutte le comodità che vengono applicate alla tecnologia moderna, quale sarebbe quella dei cellulari. Che copertura territoriale abbiamo e quanto è importante questo nuovo sistema per il Radio Amatù? Allora, questo ripetitore, grazie alla posizione strategica del Comune di Rionero, dalle nostre sperimentazioni abbiamo rilevato che riesce a coprire gran parte del territorio della provincia di Sernia, anche zone della provincia di Campobasso, l'Alto Sangro e anche la regione della Campania. Quindi per noi come Radio Amatori possiamo essere più che soddisfatti di questo risultato che è stato raggiunto dal lavoro di squadra della sezione. Allora, è stato fondamentale il supporto dell'amministrazione di Rionero Sarnidico in questo progetto? Sì, è stato di fondamentale importanza, perché senza l'amministrazione comunale i ripetitori non si poteva mai installare su una postazione veramente strategica. Quindi io ringrazio tutta l'amministrazione comunale, in primis il sindaco di Rionero Antonio Minichiello e l'assessore alla protezione civile Luca Di Geronimo, che veramente per la loro sensibilità hanno capito l'importanza di questo progetto per i Radio Amatori e per la protezione civile.